Titolo V. Le regioni, le province, i comuni Articolo 114 La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Articolo 115 Abrogato Articolo 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adice Sud Tirol e la Valle d'Aosta, Valle d'Aost, dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale. La regione Trentino Alto Adice, Sud Tirol, è costituita dalle province autonome di Trento e di Polzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo coma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo coma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'Organizzazione della Giustizia di Pace, lettere N e S, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui l'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. Articolo 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legge la gestione esclusiva nelle seguenti materie. A. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. B. Immigrazione C. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose D. Difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi E. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie F. Organi dello Stato e relativa a leggi elettorali, referendum statali, elezioni del Parlamento Europeo G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali H. Ordine pubblico e sicurezza ed esclusione della polizia amministrativa locale I. Cittadinanza, Stato civile e anagrafi L. Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa M. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale N. Norme generali sull'istruzione O. Previdenza sociale P. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane Q. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassia internazionale R. Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale Opere dell'ingegno S. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni Commercio con l'estero Tutela e sicurezza del lavoro Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale Professioni Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi Tutela della salute Alimentazione Ordinamento sportivo Protezione civile Governo del territorio Porti e aeroporti civili Grandi reti di trasporto e di navigazione Ordinamento della comunicazione Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia Previdenza complementare e integrativa Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Valorizzazione dei beni culturali e ambientali E promozione e organizzazione di attività culturali Casse di risparmio Casse rurali Aziende di credito a carattere regionale Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Nelle materie di legislazione concorrente Spetta alle regioni la potestà legislativa Salvo che per la determinazione dei principi fondamentali Riservata alla legislazione dello Stato Spetta alle regioni la potestà legislativa In riferimento ad ogni materia non espressamente riservata Alla legislazione dello Stato Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Nelle materie di loro competenza Partecipano alle decisioni dirette Alla formazione degli atti normativi comunitari E provvedono all'attuazione e all'esecuzione Degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea Nel rispetto delle norme di procedura stabilita da legge dello Stato Che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo In caso di un'ampiezza La potestà regolamentare spetta allo Stato Nelle materie di legislazione esclusiva Salva delega dalle regioni La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia I comuni, le province e le città metropolitane Hanno potestà regolamentare In ordine alla disciplina dell'organizzazione E dello svolgimento delle funzioni loro attribuite Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo Che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne Nella vita sociale, culturale ed economica E promuovono la parità di accesso tra donne e uomini Alle cariche elettive La legge regionale ratifica le intese della regione Con altre regioni Per il migliore esercizio delle proprie funzioni Anche con l'individuazione di organi comuni Nelle materie di sua competenza La regione può concludere accordi con Stati E intese con enti territoriali interni ad altro Stato Nei casi con le forme disciplinate da legge dello Stato E intese con l'individuazione di un'individuazione di un'individuazione